Sala il bilancio dei casi di contagio da Covid-19 nel Vesuviano. Preoccupanti i dati di ieri a Torre del Greco, che nelle ultime 24 ore ha registrato ben 51 nuovi casi di positività, di cui 2 in regime ospedaliero e 48 in isolamento domiciliare. E' quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'ASN Napoli 3 Sud, attestate anche 6 nuove guarigioni. Resta a 248 il numero di cittadini attualmente positivi nel comune di Torre Annunziata, 240 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. L'amministrazione Oplontina, insieme all'Ordine dei Farmacisti di Napoli e Federpharma, si è attivata per l'iniziativa sociale Un Tampone per Tutti, test antigenici rapidi gratuiti di screening per l'infezione da coronavirus in piazza Giovanni XXIII della Pace. 10 nuove positività e 3 guarigioni nel comune di Ercolano, è quanto comunicato dall'ASN e dalla regione Campania. Al momento quindi i positivi sono 346, a fronte di 1.698 guariti. Dall'inizio della seconda ondata, scrive il sindaco Bonaiuto, abbiamo effettuato 14.027 tamponi. La zona gialla non può essere un liberi tutti, ma dobbiamo continuare a rispettare le norme anticontagio. Nel comune di Castellammare invece restano stabili i dati che si attestano sui 3.047 per contagiati e 41 decetuti totali dall'inizio della pandemia. A San Giorgio, il numero dei cittadini risultati positivi al covid nelle ultime 24 ore è di 72. Il sindaco Zinno scrive Il rischio della terza ondata dipenderà dai nostri comportamenti. Il senso di irresponsabilità che ha sempre contraddistinto la nostra comunità giocherà adesso un ruolo decisivo per non manificare gli sforzi fatti.